Parte il convegno sull'alta scuola del turismo ambientale qui a Pineto, si è parlato tanto dell'area marina protetta Torricerano ma ovviamente il fulcro fondamentale di questi cinque giorni qui a Pineto è stato ovviamente quello della destagionalizzazione del turismo, soprattutto terramano. Assolutamente sì, un turismo terramano che in una fase di cambiamento deve cambiare questo turismo mantenendo le proprie caratteristiche ma orientandolo verso una sostenibilità che il lavoro con l'area marina protetta del Cerrano ci dà la possibilità di fare. Ricordiamo che stiamo parlando della prima area protetta d'Europa che ha ottenuto la certificazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile per cui non della seconda una volta tanto ma prima in Europa per cui è un'eccellenza terramano. Per quanto attiene alla destagionalizzazione del turismo terramano bisogna lavorare coinvolgendo maggiormente i territori dell'interno che poi sono importantissimi dal punto di vista della destagionalizzazione senza dimenticare la costa e soprattutto anche riconquistando quello che è un'identità territoriale forte da promuovere. In questo momento devo dirlo la nostra identità territoriale è un po' avulsa da quello che è la promozione turistica regionale che si basa molto anche giustamente sulla costa dei Trabocchi, si basa molto su Rocca Calascio e sull'Alto Sangro. Ecco diciamo che è inutile dirlo, non vedo in questo momento un turismo terramano così fortemente attenzionato dalla regione Abruzzo. In parte ciò è comprensibile però questo chiama il territorio ad uno sforzo di promozione autonoma partendo proprio dalla propria identità.